La creazione del mondo, insomma, spiega come ha fatto Dio, insomma, le varie parti della creazione del mondo, le prime principi, all'inizio, al principio. Insomma, fa il mondo come noi lo conosciamo, più o meno, e alla fine cosa fa? È un canto popolare religioso e dopo la creazione del mondo si parla di la vita di Adamo e della sua morte. Alla sua morte hanno messo tre semi, tre grani nella sua bocca e sono usciti tre albri che c'erano l'ulivo, il cipresso e la palma. Alla sua morte Alla sua morte Alla sua morte Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti Grazie a tutti